la gente non solo per pregare ma anche per protestare si fanno lì e fanno la catena ma hanno battuto sulle spalle e battute tra loro per giocare, per festeggiare, per costruire e per offrire qualche piccolo per le campanelle bellissime bene bene, battimmo le mani tutti al serio allora ma la gente non è la mia, ma 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 la mia S tabii non è più che non è potente che ragazzi accorgono 精 sono E' da un'altra mano, e' da un'altra mano, e' da un'altra mano. Il padre è un pavimento, il hotel è ferrato, C'è tutto il destino e non fanno di mano. Le mani, le mani che sanno parlare, Che sanno arrivare, che sanno pregare. Il padre è un pavimento, il padre è un pavimento, il padre è un pavimento. Le mani è da, le mani è da, le mani peri, le mani giuri. Le mani è da, le mani è da, le mani peri, le mani giuri. Siamo giudiani, facciamo le mani, tagliamo le canzoni in alto le mani. Chi scucia dove è? Amun gano mai, chi scucia dove è? Se vedrà le mani. Le mani è da, 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 le mani giuri. Le mani, le mani, le mani, le mani, le mani ferite, le mani pulite. Abbiamo le mani, le mani più amare, che stringono ancora qui dentro le mani. Mettiamo le mani, le mani sul cuore, più solo si c'è, più tanto amare. Le mani, 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 le mani Grazie a tutti Grazie a tutti